Un altro bancomat del Chietino è stato fatto saltare in aria nella notte, questa volta l'episodio si è verificato nel comune di Poggio Fiorito, l'istituto di credito preso di Mira e Tercas. I ladri sono entrati in azione intorno all'1.30 in pieno centro, lungo corso Vittorio Emanuele, con la tecnica ormai collaudata dell'acetilene. Ingenti i danni provocati dall'esplosione al latro della banca, una volta saltato in aria il bancomat, i malviventi hanno raccolto le banconote circa 10.000 euro e sono poi fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata di colore grigio. Ad agire sarebbero stati forse in tre. Posti di blocco sono stati attivati in tutto il comprensorio, finora senza esito. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Ortona, diretta dal Maggiore Roberto Ragucci. Il colpo segue di 24 ore, quello messo a segno sempre ai danni di uno sportello della ex Tercas, ora popolare di Bari, a Colonnella. Il bottino in questo caso è stato di 15.000 euro. Di solito la banda della marmotta ha sempre assalito i bancomat nella notte tra il venerdì e il sabato quando i distributori automatici sono carichi di banconote per il fine settimana. Ora pare sia stata messa in campo una nuova strategia a colpire i bancomat ad inizio settimana, accontentandosi forse di meno soldi ma rischiando di meno, considerato che i controlli delle forze dell'ordine sono stati rafforzati nel fine settimana. Solo un mese fa, il 23 agosto, la banda della marmotta mise a segno un doppio colpo a pochi chilometri da Poggio Fiorito, prima a Castelfrentano e poi a Frisa. Il bottino fu di quasi 40.000 euro.